Benvenuti, benvenuti, cari amici, siamo Ubiti in questo nuovo video. Andiamo subito a vedere che cosa sta avvenendo all'interno del mercato di criptovalute. IOS più 17,1%, TOM più 15,4%, CHILIZ ancora molto bene, più 16%, ATOM più 9%. All'interno dei top losers troviamo SESIUS col meno 23,6%. Vi ricordo proprio su SESIUS che io avevo aperto uno short, per cui ottimo, andremo a vedere anche la situazione su SESIUS intorno a questo video. Naturalmente che cosa andremo a vedere ora? Andremo a vedere l'alcoindex Bitcoin, notizie su Terra Luna Classic, Shiba Inu e infine proprio SESIUS, per cui andiamo subito a vedere. L'alcoindex che in questo momento segna 84, per cui come più volte detto siamo veramente a livelli altissimi. E quello che si sta prospettando secondo me è simile ad aprile barra giugno del 2021. Quindi come vi ho già detto più volte io prevedo un vero e proprio crash delle alcoindex che è appena iniziato. Almeno crash nei confronti di Bitcoin, ma secondo me in generale avremo un bel crash sulle alcoindex. Andiamo subito a vedere quello che è il prezzo di Bitcoin, siamo a 21.000 dollari proprio in questo preciso istante. E come vediamo che cosa sta avvenendo su Bitcoin? Allora abbiamo questa trendline che è scendente per quanto riguarda Inimi, che per ora sta andando a tenere. Naturalmente qui sono con candele a 45 minuti. Abbiamo avuto proprio ora un piccolo dump, però sembra in questo momento che il muro dei 20.871 dollari si sta tenendo. Per cui attenzione che naturalmente più lateralizziamo, più abbiamo buone possibilità di andare come prossima resistenza a riattaccare i 21.700 dollari. Ieri ce l'avevamo provato, ok? Niente. Vediamo se oggi ci saranno volumi, perciò che Bitcoin possa andare ad attaccare i 21.700 dollari. Naturalmente dovessimo che riattaccare i 21.700, prossimo target 22.500 dollari. Ora andiamo a vedere Terra Classic perché ci sono notizie molto e molto importanti. Ok, market cap praticamente di 600 milioni, volumi nelle ultime 24 ore più 26%, quindi molto, ma molto bene per quanto riguarda Terra Classic. Naturalmente i maggiori volumi sono arrivati su Binance con 15 milioni, a seguire FTX 7 milioni, Huobi e tutti gli altri exchange. Ma qual è la notizia che potrebbe cambiare le carte in gioco per quanto riguarda Terra Luna? Allora, sostanzialmente al 26 di agosto ci dovrebbe essere lo staking di Terra Luna, che naturalmente potrebbe implicare, ok, un vero e proprio scale rockets da parte di LUNC. Naturalmente ci sono due vie, ok, per l'aumento del prezzo di LUNC. La prima è lo staking, che effettivamente se verrà implementato, secondo me, porterà a un bel pump. La seconda, naturalmente, è il barn, quel famoso barn dell'1.2%. Qui ci danno anche una piccola visuale di quello che potrebbe essere lo stake, ok, di Terra Luna. E proprio lo stake dovrebbe arrivare tra quattro giorni, per cui qui ci dicono su LUNC Validator, pagina che io seguo, ok, per reperire notizie, che potrebbe arrivare un vero e proprio pump. Ma quale potrebbe essere a pietra miliare che andrà sostanzialmente ad aumentare sensibilmente il prezzo nominale di LUNC? Beh, sicuramente questo barn, che quanto sembrerebbe è stato già implementato all'interno del codice, dovrebbe uscire a partire da metà settembre. Sembra essere anche coinvolto Binance, vedremo, naturalmente, però io vi dico che se Binance detiene il 40% della total supply dei token di LUNC, secondo me qualcosa bolle in pentola. E proprio CZ, ok, ha postato questo nuovo tweet. Quale sarà la prossima coin che andrò a listare? Vi ricordo che anche CZ fece, ai tempi del profondo dump, ok, di Terra Luna, questo tweet, nel quale parlava del suo disappunto, naturalmente nei confronti di Don't Know, e dell'intero progetto, ok, di Terra Luna, e di come lui sostanzialmente voleva ripristinare il PEG di UST, e io vi dico, non è detto, ok, che magari pian pianino nel tempo CZ non riesca a fare questo. Naturalmente, per fare tutto ciò è necessario tantissimo tempo, secondo me comunque CZ si sta muovendo, e soprattutto per il fatto, lo dico e lo ribadisco, naturalmente non sono nei consigli di Binance, nei consigli di trading, però il fatto che CZ stia, insieme a Binance, accumulando Terra Luna, lo dico e lo ribadisco, secondo me qualcosa, ok, c'è sotto. Quindi, andiamo a vedere anche quello che in questo momento è il prezzo di West EC, cioè la stablecoin di Terra Luna, che oggi registra un più 3.8%, quindi diciamo va in contortendenza rispetto a quello che il mercato generale, come abbiamo visto solo alcune altcoins, ok, hanno fatto positivamente, e negli ultimi 30 giorni, naturalmente, potete vedere come il grafico stia letteralmente dampando, anche se abbiamo avuto una risposta proprio nella giornata odierna. Ora, andiamo a darci anche il ban, ho chiedito alla Luna, perché finora sono stati bruciati 3 miliardi e 75 milioni, quindi bene, continua, anche se c'è stato un piccolo ralentamento. A comandare, naturalmente, sono i Lunatics, con 1 miliardo e 600 milioni, poi a seguire MXC 533 milioni, la Lunkdown 295 milioni e Binance 132 milioni. Ovviamente tutti, ok, sottolineo tutti, ci aspettiamo qualche movimento da parte di Binance in futuro, per quanto riguarda il ban. Bene, la action di Talaluna, 9 mila e 58, prossima distenza che sostanzialmente l'abbiamo sui praticamente 10 mila, 9 mila e 8 e 59, quindi se Luna dovesse rirraggiungere, ok, questo livello sarebbe un più bel 8%, che secondo me potrebbe valere la pena, ok, tradare, naturalmente non sono i costi finanziari, i costi di trading, per il lungo periodo, cioè da qui a qualche giorno, barra settimana, si potrebbe sfruttare effettivamente quello che dovrebbe essere lo staking di Talaluna, che dovrebbe uscire al 26 agosto. Naturalmente vi ricordo che se lo stake non uscirà, probabilmente potremmo ritestare questo supporto di 8500, che in questo momento è forte, perché l'abbiamo ritestato una, due, tre volte, quattro, ok, e ho detto come secondo me era interessante proprio un'apertura in queste zone ed effettivamente finora sta premiando, quindi molto molto bene. Andiamo a vedere anche Shiba Inu, in questo momento siamo a 7 miliardi.6 di capitalizzazione, posizione 12, numero di holders 1 milione e 210 mila, quindi anche qui come principali holders abbiamo Binance, che detiene il 4% più un 4.87%, come vi ho avuto spiegato. Dopodiché Shiba Inu è stata listata, ok, una nuova coppia, ok, di Shib su Crypto.com, quindi ora su Crypto.com sarà possibile tradare anche Shib su Boost e sostanzialmente abbiamo avuto un burn, ok, da parte di Amazon, come voi sapete è possibile acquistare, ok, su Amazon attraverso anche Shib, ok, c'è l'app, e quindi sono stati bruciati 22.8 milioni di Shiba, che non sono tanti, però naturalmente contribuiscono a quello che è il burn. Nell'ultime 24 ore 125 milioni Shiba bruciati, quindi molto molto bene, come vedete anche qui, e nell'ultima settimana addirittura 582 milioni, per cui il burn sta continuando, siamo finora arrivati a 62 miliardi Shiba Inu bruciati, quindi ottimo, naturalmente più Shib verranno bruciati, più il prezzo nominale andrà a aumentare in futuro. Vi ricordo che ad oggi non abbiamo che una data in cui smetterà il burn, per cui magari da qui a 5, a 10, a 20, a 30 anni, Shiba Inu potrebbe veramente avere valori pazzeschi, soprattutto se confrontati anche all'inflazione, ok, che avremo in futuro. Andiamo a vedere anche in questo momento il prezzo di Shiba, ok, siamo sostanzialmente a 1.300, target che io ho chiamato, ok, 1.300 proprio, se vi andate a vedere i video precedenti, perché avevamo qui questa prima resistenza al 20 di luglio, e naturalmente Shiba è arrivato anche a 1.200, 3.600, quindi cosa mi aspetta Shiba Inu? Allora, qui abbiamo la media 50 giorni, la media 200, e probabilmente secondo me andremo a fare tangenza, ok, sulla media a 50, questa è un po' la media, quindi magari Shib potrebbe andarsi a prendere il supporto, che naturalmente la media andrà ad aumentare, se effettivamente Shib manterrà questi prezzi, o andrà sopra, quindi tangenza secondo me è più che probabile, ok, in questo momento, e cosa potremmo rivedere? Secondo me in questo momento potrebbe essere interessante, anche qui un'apertura su Shiba Inu, per eventualmente ritradarsi un'eventuale 1.700, questa sostanzialmente la media in questo momento, andiamo infine a vedere Sessius, ok, perché anche qui avevo chiamato lo short sui 2 dollari 20, quindi ottimo, sostanzialmente io sono andato a chiudere proprio qua, a 1.64, perché anche qui avevo una vecchia resistenza, ok, come vedete anche qui di luglio 2022, quindi secondo me ci sarà un rebound, ok, probabile da parte di Sessius ci sarà una piccola spinta razzista, questa è un problema di EA, perché sostanzialmente Sessius è andato a rompere, proprio quella resistenza di luglio, e potenzialmente potrebbe ritestare i 2.11, anche se vi dico la verità, io non andrò a fare operazioni, perché non ha senso, ok, fare operazioni giornaliere, ma solamente quando considerate rischio di rendimento, maggiore, ok, rispetto al rischio, quindi, che cosa andrò a fare? ora sto un po' calmo, ok, mi sono fatto il gain, sostanzialmente a 2.20, che sono andato ad aprire, ve l'avevo anche comunicato, abbiamo fatto un 26%, quindi direi niente male, ora me ne sto tranquillo, però naturalmente io vi vado a dire quella che è la mia, come già detto, secondo me ci potrebbe essere un piccolo rebound, anche fino a zona 2.9, piccolo rebound, per poi prendere e scendere, comunque io su Seisius sono assolutamente bearish, quindi secondo me, nelle prossime settimane, vedremo dei prezzi di gran lunga inferiori, dico la verità, non posso sapere il target, ok, in questo momento, però a me, in questo momento, assolutamente non piace Seisius, e assolutamente non mi piace questa crescita, ok, che ha avuto, perché guardate qui che pendenza sostanzialmente ha avuto Seisius, dal 5 di agosto al 15 di agosto, quindi nel giro di 10 giorni, Seisius è andato a fare, guardate qui, un 288%, quindi a me sembra eccessivo, e di conseguenza assisteremo a un bel dump, potrebbe ridampare in zona anche 1.17, secondo me è fattibile, quindi naturalmente se ti è piaciuto questo video, ti ricordo di sbagliare il like, iscrivervi al canale, e ci vediamo presto.